Perché FQM ha deciso di ampliare il suo raggio d'azione e aprire una sede qui in Italia? FQM è una fondazione europea su quality management, esiste da oltre 25 anni. È un importante network che raccoglie 50.000 organizzazioni a livello europeo di tutte le dimensioni private e pubbliche. È importante avere una sede di rappresentanza in Italia perché l'Italia comunque gioca un ruolo importante nell'economia europea e globale. Quali sono gli obiettivi della fondazione? Gli obiettivi della fondazione sono quelli di portare il miglioramento continuo, di creare una comunità volta all'eccellenza e che dia importanza al quality management, quindi ai principi volti proprio al miglioramento delle performance aziendali dell'organizzazione. Quindi risultati concreti, portare risultati concreti. Quindi non solo fare della retorica intorno alla parola eccellenza, ma concretizzarla e portarla proprio all'interno dell'azienda e visibilmente nei risultati, con le persone, con la sostenibilità e con i risultati economici. In questo senso come la fondazione sarà vicina alle aziende iscritte? La fondazione sarà vicina attraverso, mettendo a disposizione appunto le best practices raccolte in appunto come dicevo in 25 anni di esperienza, che vengono continuamente aggiornate e riviste attraverso appunto executive director, manager di queste importanti aziende che si incontrano in tavole rotonde, forum, momenti di formazione, momenti di peer assessment, momenti di incontro e gli strumenti sono molti. Ci sono già aziende italiane che hanno sposato la fondazione? Sì, certo. La fondazione è arrivata inizialmente come un club dell'eccellenza qualche anno fa. Tra queste aziende c'è Telecom Italia, Electrolux, GlaxoSmithKline, Indire, Università di Torvergata. Sono diverse. Grazie.